Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera alla bilancio consolidato della Regione per il 2019. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astenzione dell'opposizione il bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2019. Illustrando l'atto in aula, il presidente della prima commissione di Palazzo Cesaroni, Daniele Nicchi, ha ricordato che il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo di società partecipate ed enti che fanno capo alla Regione. Il bilancio consolidato permette di ottenere maggiori informazioni sui bilanci degli enti, dando una rappresentazione delle scelte di indirizzo, pianificazione e controllo anche in termini contabili. Un elemento che consente anche all'amministrazione capogruppo di utilizzare un nuovo strumento per rendere più efficace l'attività di programmazione, gestione e controllo del proprio gruppo e di conoscere le consistenze patrimoniali e finanziarie e il risultato economico del gruppo. Nello specifico del gruppo amministrazione pubblica della Regione Umbria fanno parte Umbria TPL, Umbria Digitale, Svilupp Umbria, Parco Tecnologico Agroalimentare 3A, ATER, ADISU, ARPA, Agenzia Forestale, Agenzia Umbria Ricerche, Centro per le Pari Opportunità, ARPAL-GEPAFIM, il Consorzio Villa Umbra e Umbria Salute. Il risultato del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 evidenzia un utile pari a circa 40 milioni di euro, con un lieve decremento rispetto al 2018 sostanzialmente riconducibile alle risultanze reddituali della Regione. I componenti positivi della gestione sono rappresentati per l'80% del totale dei proventi da attributi e da fondi perequativi attribuibili alla Regione, mentre un'altra voce rilevante è rappresentata dai proventi da trasferimenti e contributi, che pesa circa per il 12%. I componenti negativi della gestione sono costituiti per l'86% del totale dai contributi e dai trasferimenti, dalle prestazioni di servizi per il 4% e da quelle del personale per il 5%. La terza commissione ha approvato il piano della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2021-2022, illustrato nei dettagli dall'assessore regionale Paola Agabiti. Paolo Giovagnoni. Il piano scuole 2021-2022 è stato approvato dalla terza commissione con il solo voto contrario del consigliere del Partito Democratico Michele Bettarelli, che lamenta l'annullamento di tutte le richieste provenienti dall'Alto Tevere, nonostante la concessione di numerose deroghe per altri territori. Il no al liceo musicale e al liceo sportivo per Città di Castello e Umbertide è stato spiegato dalla direttrice dell'ufficio scolastico regionale Antonella Iunti. Sono indirizzi che richiedono costi notevoli per la presenza di insegnanti aggiuntivi oltre a quelli delle materie comuni e il Ministero ne concede di norma solo uno per provincia. Essendocene in Umbria già due per provincia, musicale a Perugia e Città della Pieve, liceo sportivo a Gubbio e Foligno, risulta impossibile aprirne altri, anche per le considerazioni legate al problema della denatalità, che sta progressivamente riducendo il numero degli iscritti. Il parere favorevole per i nuovi indirizzi formativi concessi agli istituti di Gualdo, Spoleto, Arvieto e Fabbro resta comunque subordinato all'organico eventualmente assegnato dal Ministero dell'Istruzione. Per quanto riguarda la rete scolastica, parere favorevole al mantenimento in deroga dell'autonomia scolastica degli istituti comprensivi di Valfabbrica e Massamartana, sulla base della Convenzione Triennale con le amministrazioni comunali per il potenziamento delle scuole. Parere favorevole al mantenimento in deroga dell'autonomia scolastica anche per gli istituti di Cerreto di Spoleto, Sellano e Cascia Monteleone, alla luce degli eventi calamitosi subiti, come previsto dalle linee guida regionali. Parere favorevole anche al mantenimento in deroga dell'autonomia scolastica dell'Istituto di Amelia. Non ammissibile invece la richiesta di incorporazione fra istituti a San Giustino perché è pervenuta fuori termine e per carenza di documentazione. Inammissibile anche la richiesta di Spoleto di accorpare Itis Ipsia e professionale De Carolis, ma in questo caso si è disposto di avviare un tavolo di confronto interistituzionale per trovare soluzioni e ridurre il rischio di sottodimensionamento scolastico derivante, oltre che dalla dispersione scolastica, anche dai flussi migratori, dal decremento demografico e dalla denatalità sul territorio. Potenziamento dell'ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016. La mozione di Bianconi del gruppo misto trasformata in risoluzione unitaria della seconda commissione. Vediamo. La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha approvato con voto unanime una risoluzione che mira ad impegnare la Giunta regionale ad intervenire per la razionalizzazione e potenziamento del personale destinato alla ricostruzione post-sisma 2016. La proposta era partita dal consigliere Vincenzo Bianconi del gruppo misto attraverso una mozione presentata in aula lo scorso 26 maggio e rimandata in commissione per una più ampia discussione. Anche con riferimento alle audizioni del commissario Giovanni Legnini e del direttore regionale per il governo del territorio Stefano Nodessi, al documento originario sono state apportate modifiche condivise rispetto al dispositivo finale. Alla Giunta viene dunque chiesto, nello specifico, di impegnarsi a concludere nel più breve tempo possibile la procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di personale da utilizzare presso l'ufficio speciale ricostruzione, rivedere la distribuzione delle risorse umane, assegnate in fase emergenziale ai comuni e alle province, in funzione delle pratiche di ricostruzione pubblica e privata effettivamente gestite dal singolo ente, concentrare le risorse umane che si occupano della ricostruzione privata presso la sede dell'ufficio speciale ricostruzione di Foligno e di Norcia e quelle che si occupano di ricostruzione pubblica, presso gli uffici regionali di Perugia. Porre in atto ogni altro utile intervento per incrementare le risorse umane da destinare alla ricostruzione, attingendo ad eventuali ulteriori trasferimenti nazionali e o utilizzando le economie derivanti dalla riduzione del personale in comando, provvedendo anche con ulteriori risorse proprie dal bilancio regionale. All'esecutivo viene chiesto inoltre, in un tempo congruo, valutato in 60 giorni, una relazione sullo stato di attuazione della proposta. L'Assemblea legislativa ha preso atto della relazione del garante dei detenuti, Stefano Anastasia, relativa all'anno 2019. Il servizio è di Paolo Giovagnoni. La relazione del garante dei detenuti per l'anno 2019 evidenzia ancora un sovraffollamento significativo nelle carceri Umbre, a oggi sostanzialmente rientrato, tranne che a Terni. La composizione della popolazione penitenziaria è molto diversa da istituto a istituto. Terni e Spoleto sono prevalentemente dedicati alla massima sicurezza, con detenuti italiani, anche se non Umbri, mentre Orvieto e soprattutto Capanne hanno una maggioranza di detenuti stranieri. In Umbria c'è una maggioranza di condannati in via definitiva, con una percentuale doppia di condannati all'ergastolo rispetto alla media italiana. Sugli oltre 1.300 detenuti attuali, circa un migliaio provengono da fuori regione. Tra le criticità, la relazione segnala la mancata territorializzazione della privazione delle libertà. Il sistema Umbro è destinato a persone lontane dall'Umbria, con l'unificazione del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Umbria e Toscana, che gestisce la locazione dei detenuti di media sicurezza. Spesso l'Umbria è diventata destinazione di detenuti con comportamenti scorretti all'interno dei penitenziari toscani, una prassi non corretta, secondo il garante. La mancata territorializzazione comporta che le istanze di trasferimento sono tra le richieste più comuni tra i detenuti. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha affrontato, nell'ultima seduta, numerosi temi, discutendo gli atti di indirizzo presentati dai diversi gruppi consigliari. Ce ne parla Marco Paganini. I lavori a Palazzo Cesaroni si sono aperti con l'informativa della Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, sull'emergenza sanitaria in colso, cui ha fatto seguito la replica del portavoce delle opposizioni, Fabio Paparelli. La Presidente ha tra l'altro sottolineato che l'indice RT e il tasso di mortalità sono tra i più bassi in Italia e l'Umbria è stata una delle prime due regioni ad uscire dalla fase 2. Preoccupano i dati dei ricoveri e quelli della terapia intensiva. È stato necessario un allentamento pre-natalizio indispensabile per una minima ripresa economica e sociale. Saremo cauti su successivi allentamenti delle restrizioni, ha detto la Presidente. Il messaggio agli Umbri è che ci vuole massima cautela, rispetto delle regole, perché ciò andrà a regolamentare la nostra socialità e può fare la differenza. Fabio Paparelli ha replicato che deve essere riconosciuta l'esistenza di alcune criticità e vanno valutate le soluzioni proposte dalle opposizioni. Le 167 terapie intensive sono potenziali e non effettive. I finanziamenti previsti per il capodanno alle acciaierie, che non si farà, potrebbero ora servire per 32 ventilatori polmonari. L'ex milizia di Terni non è stata presa in considerazione, mentre invece ora ha una struttura ampia e attrezzata che avrebbe evitato il ricorso ai locali inadeguati scelti presso il pronto soccorso di Terni. Paparelli ha infine evidenziato che dovremmo preoccuparci di fornire a tutti gli Umbri le risorse per sopravvivere, evitando la scomparsa delle piccole imprese. Nel corso della seduta, l'Aula ha poi deciso per il rinvio in commissione della mozione della Lega relativa all'autorizzazione per i cacciatori di uscire dal proprio comune nel giorno di Santo Stefano al fine di recuperare le giornate perse a causa dell'emergenza Covid. È stato invece bocciato l'atto di indirizzo della consigliera Donatella Polzi, Partito Democratico, che proponeva un accordo tra Regione Umbria e farmacie convenzionate per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi per il Covid-19. Stesso esito per il voto sulla mozione firmata da PD e Fratelli d'Italia, che impegnava la Giunta ad istituire una misura di sostegno specifica a favore degli operatori economici e organizzatori di eventi fieristici. Respinto anche l'atto di indirizzo di cui era primo firmatario Vincenzo Bianconi, gruppo misto, che aveva l'obiettivo di assicurare a tutte le persone non autosufficienti, senza discriminazioni in termini di disabilità grave o gravissima, patologie, condizioni ed età, un progetto personalizzato e partecipato. Approvata invece la mozione di Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, Lega, relativa all'implementazione dei servizi dedicati alle politiche europee e a realizzare, anche attraverso la collaborazione con le società partecipate, la rete territoriale degli sportelli Europa, al servizio di antilocali, imprese e territorio, al fine di favorire l'accesso ai fondi comunitari. Via Libra dell'Aula anche alla proposta di Salvagualdi a riqualificazione e rilancio del sito archeologico della Guastuglia a Gubbio, di cui Daniele Nicchi, Lega, era primo firmatario. Consenso unanime dell'Assemblea per la mozione dei consiglieri Paolo Fioroni e Stefano Pastorelli, che chiede all'esecutivo di prevedere azioni a sostegno dei consumatori e debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali, per favorire a questi soggetti l'accesso alle procedure di sovraindebitamento. Con voto unanime, le commissioni seconda e terza hanno dato il via libera a una proposta di risoluzione che mira ad impegnare la Giunta regionale a prevedere azioni per il pieno sostegno all'eccellenza ceramica Umbra, centro del sistema ceramico italiano. L'atto, d'iniziativa di Michele Bettarelli del Partito Democratico e poi condiviso da Francesca Peppucci della Lega, già discusso in aula lo scorso 26 maggio e rimandato in commissione per una più ampia discussione, è stato dunque fatto proprio dai due organismi di Palazzo Cesaroni che hanno provveduto ad ampliarlo nel dispositivo, accogliendo tra l'altro alcune indicazioni dell'assessore Michele Fioroni emerse nel corso di un'audizione. Illustrato in terza commissione il disegno di legge e di iniziativa della Giunta regionale circa le disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico. L'atto è stato illustrato dalla responsabile della sezione assistenza ospedaliera ricerca e innovazione di Palazzo Donini, Alessandro Montedori. La proposta di legge comprende dieci articoli ed ha la finalità di valorizzare e potenziare il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, SASU CNSAS, per riconoscerne il valore operativo anche in virtù di un rapporto con la sanità regionale già esistente nell'ambito del servizio di emergenza urgenza 118 che si punta a rafforzare. E' sempre in terza commissione audizione relativamente all'azienda pubblica di servizi alla persona Muzzibetti di Città di Castello che chiede un intervento alla Regione. Le rette, è stato sottolineato, sono ferme alle quote del 2009 e l'emergenza sanitaria ha imposto altri costi. Inoltre la struttura è alle prese con la riduzione del personale infermieristico convenzionato causata dall'assunzione da parte delle usle di infermieri della cooperativa. Paola Fioroni della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, annuncia sulla disabilità una proposta di legge di modifica del testo unico della sanità e servizi sociali condivisa dalla Gruppo della Lega. Necessario, scrive nell'atto, riordinare la normativa regionale delineando la cornice di riferimento di ogni intervento legislativo per garantire i diritti imprescindibili delle persone con disabilità. Interrogazione di Simona Meloni e Tommaso Bori del Partito Democratico con cui chiedono all'esecutivo di Palazzo Donini di dare piena operatività e struttura all'osservatorio epidemiologico e al Comitato Etico regionale. Domandano di fare chiarezza su come sono state impegnate le risorse finanziarie vincolate e destinate al funzionamento dell'osservatorio, le ragioni che hanno portato al ritardo nella costituzione degli organismi del Comitato Etico e come sono proseguite in questi mesi, con quali risorse economiche e di personale, le sue attività. Fabio Paparelli del Partito Democratico annuncia un suo atto ispettivo per sapere dalla Giunta se ritiene tutti idonei ed opportuni anche in relazione alle normative a garanzia della sicurezza del personale sanitario i nuovi spazi Covid individuati in questa ondata pandemica a servizio del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Terni e precedentemente utilizzati come magazzini per le cartelle cliniche a servizio, scrive Paparelli, della farmacia e adibiti alla endoscopia digestiva. In un'altra interrogazione, sempre Fabio Paparelli, chiede di sapere dall'esecutivo tra le altre domande con quali modalità, tempistiche e risorse intende assicurare la continuità del lavoro del registro tumorium attivo sin dai primi anni 90 e interrotto dalla Giunta. Francesca Peppucci della Lega interroga la Giunta per conoscere quali azioni e interventi intenda mettere in campo affinché il ponte di Montemolino sulla strada regionale 397 nei pressi di Todi possa tornare ad avere piena funzionalità e garantire una viabilità adeguata per il territorio considerando anche che la struttura, scrive Peppucci su cui sono state effettuate opere di consolidamento vede avvicinarsi la scadenza del novembre 2022. Andrea Fora, patto civico per l'Umbria annuncia una sua interrogazione alla Giunta per sapere se non ritenga opportuno definire linee di indirizzo omogenee per la gestione degli accessi alle strutture sanitarie dei visitatori e delle assistenze improntate anche a favorire la presenza del padre in sala parto permettendo loro di effettuare il test molecolare direttamente nelle unità operative di degenza a carico del personale di ossetrice. Ed anche per questa edizione è tutto vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube TeleCRU vi dà appuntamento al 2021 con una nuova puntata, un nuovo TG quindi vi auguriamo un buon Natale, buone feste buon fine 2020 e buon inizio 2021 grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti